salve amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di iniziare voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche voglio anche ricordarti di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti ma adesso non perdiamo altro tempo cominciamo una ragazza di nome yara sebastian mostra una foto di gruppo fatta ad una sua amica sulla foto vengono ritratte molte ragazze tra cui l'amica di sara la cosa strana di questa foto è che alle spalle di tutte quelle ragazze rimane impressa questa strana figura figura che sembrerebbe tentare di nascondersi in base ad alcune testimonianze anche di molti insegnanti quella strana figura sarebbe lo spirito di una ragazza morta in quel posto lo spirito potrebbe essere rimasto intrappolato in questo mondo materiale non riuscendo ancora a comprendere di non essere più in vita lo spirito continua ancora adesso a infestare quel luogo il prossimo video è stato ripreso da un ragazzo entrato in un parco infestato da uno spirito che sembra divertirsi nello spaventare la gente emettendo delle urla terrificanti ciò che riesce a filmare questo ragazzo è davvero incredibile ma andiamo a guardare questo filmato non è vero ma andiamo a guardare questo stiamo in la giardino corregidora in un ospedale in Messico un residente decide di investigare su delle strane urla che sembrano provenire da una scalinata interna dell'ospedale urla che sembrerebbero essere a tutti gli effetti quelle di un bambino ciò che viene filmato ha dell'incredibile ma andiamo a guardare questo video grazie a tutti grazie a tutti in indonesia viene filmato uno strano fenomeno alcune nuvole assumono una strana forma che sembra avere le caratteristiche di un vero e proprio portale per un'altra dimensione il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare questo documento in un call center in argentina cominciano a verificarsi degli strani fenomeni, alcune sedie incominciano a muoversi, come se qualcuno di invisibile le stesse spostando, dei dipendenti si accorgono di questo strano fenomeno e cominciano a filmarlo ciò che viene ripreso ha dell'incredibile ma andiamo a guardare questo documento lo sto filmando en serio eso es porque ustedes no le creyeron a las chicas el sábado pasado, pero te juro que se está moviendo en serio boluda se mueve mirá boluda se está moviendo andá carabora yo me voy a rotar me voy a fijar por si hay alguien yo me voy a... no boluda, si se mueren vení, vení, no me dejé sola vení, vení vení, vení vení, vení no, vení no, vení boluda, en serio no hay nadie no, no, no no, no, no para, yo me voy a rotar no, no mirá boluda se está moviendo andá carabora yo me voy a rotar no, para, para me voy a fijar por si hay alguien me voy a rotar no, boluda si se mueren vení 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 no, vení vení e anche per oggi è tutto ragazzi il video finisce qui non dimenticatevi di iscrivermi nei commenti di vostro parere su questi filmati io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao ciao